Utilizzano questo ospedale come se fosse una pattumiera, dove dire quando non ce la facciamo più gli altri ospedali stanno scoppiando o buttiamo qualcosa su Penne? No! Usa parole forti il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari in visita e ispettiva questa mattina presso l'ospedale San Massimo di Penne riguardo ai tanti utenti che dal pronto soccorso di Pescara sono stati dirottati nei nosocomi di Penne e Popoli. Questa è l'ennesima visita dell'esponente politico pentastellato che denuncia inoltre forti carenze di personale all'interno del presidio ospedaliero con un quadro reso ancora più complicato dai turni di ferie. Qui serve subito di nominare i primari, non abbiamo ancora un primario ufficiale del reparto di medicina che è il più importante. Devono nominare il responsabile della UOS di gastroenterologia, c'è un ascensore che non funziona, ci sono reparti che addirittura adesso con le ferie del personale, una carenza cronica di personale, stanno chiudendo, stanno chiudendo delle ospita, le allucinanti, importantissime, quindi qui non si riesce a garantire più tutti quei servizi che si garantino una volta. Bisogna fare presto, io chiedo immediatamente, l'approvazione del nuovo piano sanitario con la riclassificazione di Penne in ospedale di base e sede di pronto soccorso. Fino a quando non viene approvato questo vuol dire che si sta lasciando allo sbaraglio purtroppo tutta la comunità vestina complessa all'ospedale di Penne. Intanto dopo la denuncia alla procura della Repubblica da parte del comitato salviamo l'ospedale di Penne sulla inadeguata assistenza notturna presso il reparto di medicina, il 29 luglio alle ore 17 è previsto un incontro pubblico organizzato dallo stesso comitato e dal movimento Lotta Sanità Vestina per chiedere al sindaco e al consiglio comunale di discutere sullo stato dell'ospedale San Massimo. L'invito è rivolto a tutte le autorità provinciali e regionali a partire dalla dottoressa Veri che dovrà una volta per tutte venire a Penne e a dire quali sono le sorti del nostro ospedale visto che ogni giorno assistiamo a tagli e a morti per l'autombulanza che arriva a distanza di qualche ora. Quindi è ora che si dica la verità sulla sorte dell'ospedale di Penne una volta per tutte.